questo passaggio e proprio qui troverete la cascata. Ciccio so a parlà, non stressà l'anima no? Cosa fare per poter aprire questo passaggio? Per andare ad eliminare questa cascata di sabbia di base dovremmo avere lo stesso oggetto che otteniamo per andare ad eliminare la cascata d'acqua invece che si trova nel capitolo 1, video già presente sul canale. Qualora non l'aveste ancora fatto link in descrizione per il video. Potete farlo tranquillamente dopo non preoccupatevi. Adesso vi attacco un pezzetto di quel video perché praticamente dovremmo ottenere lo stesso identico oggetto che ci servirà appunto per andare ad eliminare la cascata d'acqua. L'oggetto in questione è questo qui, squame di long e ci servirà appunto per interagire con la nostra cascata di sabbia o d'acqua come abbiamo appunto già fatto nel capitolo 1 nel precedente video. Per cui se avete già questo oggetto qui non dovete rifare i passaggi che vi mostrerò a breve. Qualora non aveste questo oggetto seguite questo pezzetto di video per andare a recuperare questo oggetto che ci servirà appunto per oltrepassare questa porta. E giovani mi raccomando non saltate pezzi di video perché dopo nei commenti mi scrivete cose ovvie come dove devo andare mostro tutti i luoghi nel dettaglio. Mi chiedete ah ma come faccio a fare quello? Ah ma potresti mettere la timeline? In descrizione c'è tutto sotto ogni singolo video c'è la timeline. Per cui per favore se non schippate pezzi di video fate un favore a voi soprattutto e magari anche a me che evito diciamo di perdere tempo a spiegarvi nel dettaglio i video. Farei molto prima a fare video da 3-4 minuti ci metto molto di più per spiegarvi tutto nel dettaglio però se non ascoltate e schippate non andiamo troppo avanti per cui giovani ascoltate il video e non schippate pezzi se volete fare tutto quanto senza fare errori. Mi raccomando siamo all'ingresso del villaggio nel villaggio del varco di sabbia esattamente in questo punto proprio all'inizio del capitolo 2. Da questo punto qui basterà andare da questa parte vi mostro il giro che ho fatto io per arrivare dal boss in maniera un pochino più semplice perché lì all'inizio troviamo un sacco di gente con le balestre e qualche mobbetto giù che ci aspetta. Io ho fatto questo giro di qua e ovviamente anche da questo lato troverete diversi mob un pochino cattivi ma una volta uccisi non respawneranno comunque continuate dritto da questa parte qui troverete una porta chiusa la aprite e proprio qui ci sarà la boss fight in questione. La boss fight sarà composta da esattamente due boss padre e figlio il padre è un topo piccolino il figlio è un topolone un pochino più grosso un pochino più alterato ci sono due metodi per finire questa boss fight se uccidete prima il boss grande quindi il figlio quello un pochino più corazzato nella zona più avanti il padre vi farà spawnare il secondo figlio quello che credo abbiamo andato in esilio e che va a ripescare per farsi difendere da noi dalla scimmia in questione. Se invece ucciderete prima il padre il figlio durante questa boss fight diventerà un pochino più incazzoso ma una volta abbattuto otterrete un pezzo di carne che potrete utilizzare per andare a triggerare questo secondo boss quindi il figlio più grosso mandato tra virgolette in esilio. Ora vi mostro dove quindi decidete un po' voi come completare questa boss fight se uccidete il figlio piuttosto che il padre durante la boss fight secondo me è molto più semplice ma vedete un po' voi. Detto questo una volta effettuata questa boss fight ci spostiamo da questo lato proprio qui ci sarà un altare dove potete ovviamente riposarvi per riprendervi un attimo e da qui potete continuare da questa parte e proseguire praticamente dritto. Ora io questi nemici non li ho fatti fuori ma scappo corro via e proprio arrivati in questo punto se il padre lo avete lasciato vivo lui triggererà si starete a questa cazzi e ne triggererà appunto il topolone più grande che non sto a mostrarvi per non farvi spoiler perché so che vi dà un pochino fastidio vedere le cose quindi evitiamo. Se invece tacitua non avete ucciso il figlio ma avete ucciso prima il padre avete il pezzo di carne aspettate faccio faristo scassa umbrella. Da questo punto qui voi getterete questo pezzo di carne e verrà fuori questo topolone gigante. Una volta che viene fuori questo topolone gigante che sarà un'altra boss fight dovrete cercare di fargli colpire questo muro per creare questa crepa e poter passare attraverso il muro e trovare una piccola stanza segreta. Qualora non riusciste a spaccare questo muro con questo boss non vi preoccupate perché potrete semplicemente aprire il menu andare qui nelle anime erranti e utilizzare l'anima errante appunto. Quindi questo spirito ci darà la possibilità di tirare una capocciata in questo modo qui voi la tirerete contro il muro e si creerà questo crepaccio. Questa anima errante la trovate nel primo capitolo. Non è difficilissimo da battere ma qualora voleste un video che vi mostra come batterlo fatevelo sapere nei commenti e vi portiamo il video magari anche di tutti i boss. Non so se portarvele o meno perché normalmente non siete proprio propensi a vedere le boss fight quindi fatecelo sapere se le volete ve le portiamo altrimenti lasciamo il mondo come sta che va bene lo stesso. Comunque utilizzando questo spirito semplicemente avendo la barra della concentrazione carica vedete lì dove c'è scritto R2L2 io adesso non posso usarlo ma avendo la barra carica quindi avendo quel segnalino luminoso come quello subito sulla sua destra potrete appunto triggerare questa anima errante e spaccare il muro passare attraverso il muro una volta che siete passati dall'altro rato dopo un'eternità arriverete appunto in questa stanza segreta e proprio qui giù non vi preoccupate qui non ci sarà assolutamente nessun nemico qui giù ci sarà questa cassa da aprire voi potete aprire la cassa e nella cassa troverete questo oggetto qui eccolo qui squame di long queste antiche squame di long mettono occasionalmente una scintilla quasi a voler richiamare il proprio vecchio padrone ora cosa ci facciamo con questo oggetto molto molto semplice torniamo indietro e torniamo a un altare mi raccomando spostatevi in un altare perché ora andremo a utilizzare il viaggio veloce ora una volta ottenuto l'oggetto dovrete venire qui interagire e oltrepassare la porta che vedete vedrete dietro le mie spalle ovviamente ci sarà un boss il boss in questione è il long nero è un boss potrebbe essere un boss un pochino complesso ma in realtà non lo è io credo di averlo fatto al primo try massimo al secondo ma credo proprio al primo try e semplicemente le mosse più complicate diciamo da schivare sono due sostanzialmente una è quella in cui dei cerchi elettrici si allargano lungo tutta l'arena di gioco lo vedrete a breve nella boys fight lì basterà semplicemente schivare verso destra e verso sinistra per poter evitare di prendere danni non schivate in avanti perché non farete in tempo a schivare il prossimo cerchio perché i cerchi che arriveranno saranno consecutivi per cui destra e sinistra schivate facendo proprio questo movimento destra sinistra così destra sinistra destra sinistra dopodiché ci saranno dei momenti in cui lui sbatterà l'uno contro l'altro queste specie di nacchere giganti che utilizza per spaccarci la faccia sono elettriche e quando le sbatterà l'una contro l'altra ci saranno delle esplosioni la prima più leggera la seconda un pochino più pesante la terza sarà molto più pesante quindi coprirà anche un'area più grande per cui allontanatevi quando vedete che sta comunque alzando le mani e sta sbattendo le due armi che ha una contro l'altra dopodiché cercate di utilizzare il domatore del vento perché vi darà la possibilità di andare a ridurre i danni per cui quando il boss arriva a circa metà hp attivate questo cimelio e vi tornerà molto molto utile ripeto la boss fight non è così difficile qualche try e riuscirete a portarvi a casa il tutto vi lascio alla boss fight qualora non voleste vederla potete tranquillamente schippare questo pezzo c'è la timeline e potrete arrivare alla fine del video per vedere il drop che otteniamo alla fine della boss fight detto questo giovani grazie mille e buona visione tutti 7 7 6 Grazie per la visione! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione